per Caralan Populos e Gudmundsson che indica la strada per Visconti e questo quarto periodo ed è ancora una volta Visconti che non ha avuto tanto tempo a disposizione all'interno di questo match ma se l'è preso tutto come si dice in questi casi 62-58 la pressione portata dal numero 9 che cerca di scippare questo possesso a Kruslin è una battaglia selvaggia e si infiamma